carissimi amici del canale youtube dentro la notizia sedetevi comodamente in poltrona con i vostri popcorn e godetevi lo spettacolo stiamo per assistere allo scontro colossale tra le forze legate a trump e il deep state mondiale o la cabana se preferite sì stiamo per addentrarci in quella che potrebbe essere definita la spy story del secolo dove la realtà supera la fantasia ma non è solo una vincente storia di spie militari e supercomputer è una vicenda che condiziona il mondo intero nel presente e nel prossimo futuro per cui tutti dovremmo essere interessati all'esito di quella che l'avvocato sydney powell ha lasciato intendere essere uno scontro tra titani nel momento che l'avvocato di we the people ha depositato le cause per fraude elettorale in georgia e michigan ha tweetato il kraken è stato rilasciato togliendo così ogni dubbio su cosa realmente fosse il kraken che nel film scontro tra titani vede affermarsi la celebre frase rilasciare il kraken questo mostro marino tentacolare similmente le braccia del moderno kraken sono una militare un'altra informatica un'altra di intelligence e così via oggi prenderemo in considerazione le azioni di questi potenti tentacoli strangolatori in questo articolo di cd media si legge il tenente generale mck inerney ha affermato di ritenere che il presidente trump sapesse che la frode elettorale sarebbe accaduta da qui il suo ordine esecutivo emesso per sanzioni per interferenze nelle nostre elezioni da parte di potenze straniere stanno ora circolando rapporti secondo cui il generale flin è coinvolto nell'aiutare il presidente con un'operazione di intelligence privata l'articolo come era chiaro a tempo conferma che trump era a conoscenza di possibili frodi del deep state da anni difatti il 12 settembre 2018 ha firmato l'ordine esecutivo a cui si riferisce cd media e che vedete nell'immagine che descriveva gli stessi atti di brogli elettorali e frodi dei dem oggetto delle accuse di queste elezioni presidenziali tale ordine esecutivo rileva specificamente che la capacità delle persone situate in tutto o in parte sostanziale al di fuori degli stati uniti di interferire o minare la fiducia del pubblico nelle elezioni degli stati uniti anche attraverso l'accesso non autorizzato alle infrastrutture elettorali e di campagna o la distribuzione segreta di propaganda e disinformazione costituisce una minaccia insolita e straordinaria per la sicurezza nazionale e la politica estera degli stati uniti iniziamo a far luce sullo scontro fra trump e il deep state in questo articolo di g news leggiamo il generale mck inerny ha detto oggi che il kraken di powell si riferisce al soprannome del 305esimo battaglione dei servizi segreti militari con sede in alizona ovviamente come abbiamo più volte detto il kraken è un'arma potentissima con la quale i lealti trump tenteranno di sconfiggere la cabala ed è un'arma legale che ha però tentacoli militari di intelligence informatici ed altri continuiamo la lettura in generale mck inerny conferma anche che uno scontro a fuoco mortale è avvenuto tra l'esercito e la cia a francoforte in germania sui server di conteggio dei voti scitl voci dicono che cinque militari e un agente della cia siano morti scitl era una struttura della cia a francoforte per il deep state l'esercito degli stati uniti ha ora il controllo dei server e il loro contenuto verrà fornito alla corte suprema dall'esercito se richiesto ora sappiamo cosa intendeva powell quando in un'intervista la scorsa settimana ha detto che non sapeva se i bravi ragazzi o i cattivi hanno tenuto i server scitl i bravi ragazzi sono l'esercito e i cattivi sono la cia in questa guerra segreta fra gli stati uniti e il deep state e quello che sembra è che al momento i bravi ragazzi stiano vincendo notate ora un altro durissimo colpo che trump ha inferto alla cabala la cnn media mainstream per eccellenza braccio armato della cupola che domina il mondo è costretta a parlarne ecco cosa scrive l'amministrazione trump rimuove gli esperti dal defense policy board diversi membri di alto profilo del defense policy board sono stati rimossi mercoledì 25 novembre dall'amministrazione trump in un'altra epurazione di esperti di politica estera di lunga data e figure dell'establishment della sicurezza nazionale secondo tre funzionari della difesa i membri che sono stati improvvisamente rimossi includono gli ex segretari di stato madeleine albright e henry kissinger il defense policy board è un gruppo consultivo esterno di ex funzionari della sicurezza nazionale di alto profilo che forniscono al segretario della difesa e al vice segretario della difesa consigli e opinioni indipendenti e informati su questioni di politica di difesa in risposta a compiti specifici del segretario della difesa annunci futuri per i nuovi membri del consiglio saranno fatti presto ha detto il terzo funzionario dopo che trump ha licenziato il segretario della difesa mark esper all'inizio di questo mese il pentagono ha portato cambiamenti radicali alla leadership e ha rimosso molti altri funzionari sostituendoli con presunti lealisti al presidente la mossa ha alimentato l'allarme tra i funzionari militari e civili che erano preoccupati per ciò che potrebbe accadere dopo il generale anthony tata ora un alto funzionario del pentagono che una volta definito l'ex presidente barack obama un leader terrorista ha suggerito che un ex direttore della cia stava usando una citazione di cicerone per attivare un agente dormiente per uccidere trump l'articolo si conclude qui trump sta facendo piazza pulita alla casa bianca ed intorni liberando gli americani da deep state arrivando addirittura a neutralizzare la nefasta presenza di kissinger e olbright torniamo ora al generale mckinerney questa volta lasciamo l'ambito militare per approfondire le altre due braccia del kraken quella informatica e quella dell'intelligence con questo articolo intitolato la tecnologia della cia ha cambiato i risultati delle elezioni l'ex generale dell'aeronautica militare thomas mckinerney e altri affermano che un programma per computer della cia chiamato hammer scorecard è stato utilizzato per rubare le elezioni presidenziali del 2020 il tenente generale thomas g mckinerney united states air force in pensione ha volato in 407 missioni di combattimento in vietnam ora all'età di 83 anni sta guidando un aspetto della lotta per smascherare opporsi al furto delle elezioni presidenziali americane del 2020 di gran lunga più importante dice il generale dei tanti esempi e crtanti di frode elettorale che sono stati dati nelle notizie elettori morti schede per corrispondenza schede perse schede scaricate blocco illegale di monitor elettorali eccetera è il vero meccanismo che è stato utilizzato per rubare voti al presidente trump e darli a joe biden quel meccanismo dice il generale mckinerney è un sistema di super computer della cia noto come the hammer e la sua applicazione software per il controllo delle elezioni chiamata scorecard in un video intervista con the new american il 10 novembre una settimana dopo le elezioni il generale mckinerney ha avvertito che se questa violazione criminale traditrice delle nostre leggi e della costituzione non viene completamente smascherata e joe biden viene insediato alla casa bianca non ci saranno mai altre elezioni libere in america in un'intervista con l'udaps della fox l'otto novembre l'avvocato sidney powell ha spiegato ai telespettatori che il ribaltamento dei voti da parte del programma hammer scorecard era una delle questioni su cui si sono concentrate le cause della campagna di trump durante un'apparizione nel programma fox della bartiromo l'undici novembre sidney powell ha nuovamente affrontato le irregolarità del voto del computer in cui blocchi di voti identici per biden sono apparsi più volte queste anomalie statistiche ha detto mostrano che era statisticamente impossibile che queste elezioni si risolvessero nel modo in cui sono andate è solo matematicamente impossibile abbiamo prove ha detto powell dello stesso numero di schede elettorali o dello stesso numero di voti iniettati nel sistema del wisconsin e nel sistema del michigan tre volte diverse ha affermato la powell c'è un problema sostanziale con i sistemi dominion perché il texas ha persino rifiutato tre volte di accettare adottare quei sistemi perché hanno difetti intrinseci una delle nostre teorie è che quei difetti siano stati incorporati per un motivo c'è software cinese e altri componenti all'interno di questi sistemi e naturalmente la cina ha il più grande interesse nel mondo a manipolare queste elezioni penso che sia del tutto possibile che la nsa e la dia l'agenzia di intelligence per la difesa che era capo del generale flin conducano le proprie indagini per motivi di sicurezza nazionale perché penso che sia un'alta probabilità che la cina a beneficio di joe biden abbia fatto questi brogli elettorali amministratore delegato di smartmatic antonio mugica ha testimoniato nel 2017 che maduro ha utilizzato il sistema della sua azienda per indire le elezioni aggiungendo digitalmente un milione di voti per il suo partito ora con sede a londra smartmatic ha legami inquietanti con l'amministrazione obama con joe biden e con george soros peter neffenger presidente di smartmatic in precedenza è stato capo della transportation security administration sotto il presidente obama ed è stato nominato nel team di transizione di biden un collegamento ancora più preoccupante è lord mark malloc brown presidente del consiglio di sgo corporation ltd la holding che possiede smartmatic un eminente globalista anti trump che ha ricoperto cariche di vertice presso la banca mondiale e le nazioni unite lord brown è anche un collaboratore di lunga data di george soros e serve come vice presidente del soros quantum fund e vice presidente di soros fund management per citare solo due dei suoi tanti legami con il miliardario di sinistra in un'intervista del 25 maggio 2019 con il servizio di streaming sgt report il dottor binney ha lanciato un avvertimento precoce e preveggente il programma hammer per quanto posso vedere era gestito dalla cia ha dichiarato l'ex direttore tecnico della nsa e il punto era che la nsa aveva già la sua massiccia raccolta su tutti comunque si chiamava programma stellar wind e aveva i punti di prelievo per la raccolta a monte di tutto sulle reti in fibra qualunque cosa quindi non dovevano fare hammer perché avevano già tutti i dati allora perché creare hammer perché spiega binney la cia sapeva che ogni volta che si recava alla nsa per ottenere dati la loro domanda e i dati che ricevevano sarebbero stati registrati e sicuramente non volevano lasciare una traccia delle loro attività che hanno coinvolto lo spionaggio illegale di milioni di americani inclusi soprattutto giudici politici e funzionari pubblici infatti il 19 agosto 2015 dennis montgomery l'informatore della cia dipartimento della difesa che ha progettato e costruito il sistema di sorveglianza straniera de hammer e la sua applicazione scorecard ha consegnato 47 hard disk con milioni di pagine di file dati a baker presso il miami file office dell'fbi per il quale l'fbi e la doji gli hanno fornito ricevute dettagliate e due accordi di immunità sì è lo stesso james baker che era un subalterno di james comey all'fbi prima di passare al suo attuale ruolo di consigliere generale su twitter ora come seguace del cio di twitter jack dorsey sta aiutando a censurare i tweet del presidente degli stati uniti così come i tweet di milioni di americani che esprimono pensieri ritenuti politicamente scorretti dall'elita al potere denis montgomery ha detto ai funzionali dell'fbi e del doji dipartimento di giustizia che le persone con accesso a de hammer sistema di super computer possono utilizzare l'applicazione scorecard di de hammer per hackerare i sistemi elettorali al fine di cambiare i risultati delle lezioni in paesi stranieri e negli stati uniti e se l'ha detto lui che l'ha inventato dobbiamo credergli in questo articolo di ntd evening news si cita un altro esperto informatico scelto dalla powell nella sua causa un esperto di caratura mondiale il dottor navid keshavarz nia ha un dottorato di ricerca in ingegneria e tecnologia e ha ricevuto una formazione avanzata dalla cia dalla nsa e dalla dhs nella sua dichiarazione giurata afferma di ritenere che le schede di memoria usb siano state utilizzate per interrompere le operazioni elettorali e influire sul conteggio dei voti in michigan georgia pennsylvania arizona e wisconsin ha anche detto la distribuzione del conteggio dei voti in pennsylvania wisconsin michigan arizona nevada e georgia non si basa sul normale funzionamento del sistema invece sono causati dalla manipolazione elettronica fraudolenta delle macchine per il voto in conclusione abbiamo potuto osservare alcuni fatti reali e concreti che confermano come sia già in atto una guerra serrata fra i leali di trump e la cabala mentre siamo seduti comodamente al caldo nella nostra poltrona con i nostri popcorn fuori si decidono le sorti del mondo prima di concludere volevo ringraziare gli amici della bife international una delle innumerevoli piccole e medie aziende del made in italy di successo che consiglia prendac 2 il primo integratore che associa in un'unica soluzione quattro vitamine fondamentali vitamina d3 a k2 e vitamina c queste vitamine insieme contribuiscono al corretto funzionamento del sistema immunitario e all'attivazione del ciclo del calcio che è fondamentale per la salute delle ossa e del sistema cardiovascolare la bife quando ha saputo che youtube ci ha privato degli introiti pubblicitari e degli abbonati ha deciso di dare anch'essa un contributo a favore della libertà di tutti gli italiani carissimi amici del canale youtube dentro la notizia un vivo ringraziamento a tutti voi che aiutate la libera informazione a tutela del popolo chi fosse interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale per aiutarci a crescere può contattarci tramite l'email in descrizione grazie del vostro sostegno e per la condivisione dei video più siamo più forza avremo uniti si vince un abbraccio dal vostro robbie